Ciao a tutti, prima di cominciare come al solito vi dico che per essere sponsorizzati dovete iscrivervi, lasciare like, commentare con l'hashtag sponsorizzami, rimanere attivo al canale e un'altra cosa che quando vi sponsorizzo non vi dovete iscrivere perché non ha senso e non sarebbe giusto per me. Io ora vi lascio il video, buona visione! Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, sono Anja e siamo sui video di sponsorizzazioni. Per primo sponsorizzerò King05 che ha 1104 iscritti e fa video su GTA 5, quindi fa molti live, poi la mia nuova intro, poi fact time, ecc. Poi 2Legend che ha 108 iscritti e fa video su GTA 5, FIFA 17, fare live, Call of Duty, ecc. Poi Georgia Video Life che ha 146 iscritti e fa video su Clash Royale, poi sponsorizzazioni, Minecraft, ecc. Poi Bomber Pro che ha 145 iscritti e fa video su Clash Royale, poi sponsorizzazioni, Clash Royale, speciali 100 iscritti, ecc. Poi Jaco Game che ha 155 iscritti e fa video su Clash Royale, poi jasin gamer tv che ha 75 iscritti e fa video su Clash Royale, speciali 100 iscritti, Minecraft, top, ecc. Poi Bomba 2.0 che ha 226 iscritti e fa video su Clash Royale, Minecraft, fa molte live, ecc. Poi Matteo Moon che ha 71 iscritti e fa video su Clash Royale, poi l'ultimo che sponsorizzero è Frenic 1701, X di Frenic 1701 che ha 141 iscritti e fa video su Frenic 17, GTA 5, ecc. Ok, per oggi le sponsorizzazioni sono finite, spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ciao!